«Hazel! Finalmente!» esclamò Chirone. «Sono passati molto più di due minuti!» «Scusaci!» rispose Jason. «Decidere il piede è stato... difficile!» Hazel cercò di schiarirsi le idee e di immaginare la scena attraverso gli occhi di Chirone. Quali erano i suoi desideri? Che cosa si aspettava? Era questa la chiave per usare la foschia. Non poteva costringere qualcuno a vedere il mondo come voleva lei. Non poteva rendere la realtà di Chirone meno credibile. Ma se gli avesse mostrato quello che lui voleva vedere... Beh, lei era una figlia di Plutone. Aveva trascorso decenni con i morti, ad ascoltarli rimpiangere le vite passate che ricordavano solo in parte, distorte come erano dalla nostalgia. I morti vedevano quello che credevano di vedere. E così facevano i vivi. Plutone era il dio degli inferi e della ricchezza. Forse quelle due sfere di influenza erano più legate di quanto Hazel si fosse mai resa conto. Non c'era molta differenza tra il desiderio e l'avidità. Se lei era in grado di evocare l'oro e i diamanti, perché non un altro tipo di tesoro? Una visione del mondo che le persone volevano vedere. Naturalmente poteva anche sbagliarsi. Nel qual caso, Jason stava per diventare cibo per tartarughe. Hazel posò una mano sulla tasca del giubbotto, dove il pezzo di legno magico sembrava più pesante del solito. Non custodiva soltanto la vita di Frank in quel momento. Custodiva la vita di tutto l'equipaggio. Jason si fece avanti, con le mani aperte in un gesto di resa. Comincerò io, Cirone. Ti laverò il piede sinistro. Ottima scelta! Cirone dimenò le dita pelose e cadaveriche. Credo di aver pestato qualcosa con questo piede qui. Me lo sentivo un po' viscido dentro lo stivale. Ma sono sicuro che saprai pulirlo a dovere. Le orecchie di Jason arrossirono. Dalla tensione del collo, Hazel capì che era tentato di mollare l'ha messa in scena e attaccare. Un rapido colpo con la lama d'oro imperiale. Ma se avesse provato, avrebbe fallito. Ne era certa. Cirone, hai dell'acqua, del sapone, intervenne la figlia di Plutone. Come facciamo a… così! Cirone fece roteare la pistola che stringeva nella mano sinistra. Un attimo dopo impugnava un flacone a schizzo e uno straccio. Li lanciò a Jason. Il ragazzo lesse l'etichetta strizzando gli occhi. Vuoi che ti lavi i piedi con un sapone per i vetri? Certo che no! Cirone aggrottò le sopracciglie. C'è scritto detergente multisuperficie. I miei piedi si possono decisamente definire multisuperficie. E poi è antibatterico. Mi farà bene. L'acqua non servirebbe a molto con i miei due bambini, credimi. Di meno di nuovo le dita, il tanfo nauseabondo si sparse per tutta la scogliera. Jason non riuscì a trattenere un conato di vomito. Oh dèi no! Cirone si strinse nelle spalle. Puoi sempre scegliere quello che ho nell'altra mano. Sollevò la pistola destra. Lo farà, disse Hazel. Jason la guardò a lungo con un'espressione cupa, ma alla fine si arrese. E va bene, mormorò. Ottimo! Ora! Cirone saltellò fino alla roccia calcarea più vicina e più comoda per sistemarsi. Con la faccia rivolta al mare, vi piantò sopra il piede. Somigliava a un esploratore convinto di aver appena conquistato un nuovo territorio. Guarderò l'orizzonte mentre tu mi strofini l'alluce. Sarà più gradevole? Sì, brontolò Jason. Ci scommetto. Si inginocchiò di fronte al brigante, proprio sull'orlo della scogliera. Era un bersaglio facile. Un solo calcio e il volo era assicurato. Hazel si concentrò. Si immaginò al posto di Cirone, il signore dei banditi. Abbassò lo sguardo su un patetico ragazzino biondo che non rappresentava nessuna minaccia. Era solo l'ennesimo semidio sconfitto, pronto a diventare la sua vittima. Nella mente vide cosa sarebbe successo. Evocò la foschia, richiamandola dalle profondità della terra così come faceva per l'oro, l'argento, i rubini. Jason spruzzò il detergente. Aveva le lacrime agli occhi. Strofinò l'alluce di Cirone con lo straccio e si voltò per vomitare. Hazel non riusciva quasi a guardarlo. Quando partì il calcio, rischiò di sbagliare Mira. Cirone sbatte il piede sul petto di Jason, che cadde all'indietro nello strapiombo, agitando le braccia e urlando forte. Quando fu sul punto di toccare l'acqua, la tartaruga emersa e lo buttì in un sol boccone, per poi riaffondare sotto la superficie. Le campane d'allarme suonarono sul largo due. I semidei accorsero sul ponte, armando le catapulte. Hazel sentì il grido disperato di Piper perfino a quella distanza. La turbò tanto che per poco non perse la concentrazione. Costrinse la mente a dividersi a metà, una parte concentratissima sul compito, l'altra intenta recitare il ruolo che Cirone aveva bisogno di vedere. Urlò indignata. Che cosa hai fatto? Oh, cara. Cirone sembrava triste, ma Hazel ebbe l'impressione che sotto la bandana nascondesse un ghigno. È stato un incidente, te l'assicuro. Adesso i miei amici ti uccideranno! Che ci provino, replicò il bandito. Ma nel frattempo credo che tu abbia il tempo di lavarmi l'altro piede. Credimi, mia cara. La mia tartaruga è sazia ormai. Non vorrà mangiare anche te. Sei al sicuro? Sempre se non ti rifiuterai di obbedirmi? Le puntò la pistola alla testa. E se l'esitò, permettendogli di vedere tutta la sua angoscia. Non poteva accettare troppo facilmente, o non le avrebbe creduto. Non darmi un calcio, si inghiuzzò infine. Gli occhi del bandito scintillarono. Era esattamente quello che si aspettava. Eisel era distrutta inerme. Cirone, il figlio di Poseidone, aveva vinto di nuovo. Eisel faticava a credere che quel tizio avesse lo stesso padre di Percy Jackson. Poi ricordò che Poseidone aveva una personalità mutevole, come il mare. Forse questo si rifletteva nella sua progenie. Percy era figlio della natura migliore di Poseidone. Potente, ma gentile è disponibile. Il genere di mare che so spingere navi verso terre lontane nella massima sicurezza. Cirone era figlio dell'altro lato del dio. Il mare che lugura la costa flagellandola senza tregua con le sue onde, che sommerge le navi e stermina senza pietà interi equipaggi. La figlia di Plutone afferrò il flacone a spruzzo che Jason aveva lasciato cadere. Cirone, i tuoi piedi sono la cosa meno disgustosa di te! Gli occhi verdi del bandito si indurirono. Strofina! Eisel si inginocchiò, cercando di ignorare la puzza. Si spostò un po' di lato, costringendo Cirone a modificare la propria posizione, ma immaginò di avere ancora il mare alle spalle. Mantenne quella visione nella mente, spostandosi ancora un poco. «Muoviti!» la rimbrottò Cirone. Eisel trattenne un sorriso. Era riuscita a farlo girare di centottanta gradi, solo che lui continuava a vedere il mare di fronte a sé, convinto di avere la vallata alle proprie spalle. Cominciò a pulire. Aveva svolto parecchi lavori sgradevoli. Aveva pulito le stalle degli unicorni al campo Giove. Aveva scavato latrine per la legione. «Non è niente!» si disse. Ma era difficile non vomitare guardando quelle dita. Quando arrivò il calcio, Eisel volò l'indietro, ma non arrivò lontano. Atterrò col sedere nell'erba, a pochi metri di distanza. Cirone la guardò sbigottito. «Ma...» All'improvviso il mondo si trasformò. L'illusione scomparve, gettando il brigante nella confusione più totale. Il mare era alle sue spalle. Era riuscito soltanto a spingere Eisel qualche metro più in là. Abbassò la pistola. «Come...» «Ho la borsa, ho la vita!» gridò Eisel. Jason sbucò giù dal cielo, sopra la testa del brigante, e col peso di tutto il corpo lo spinse oltre la scogliera. Cirone precipitò gridando e sparando a vuoto, per una volta senza colpire nulla. Eisel si alzò. Raggiunse il margine della scogliera in tempo per scorgere la tartaruga che sbucava dall'acqua, inghiottiva a mezz'aria il brigante. Jason sorrise. «Sei stata incredibile! Sul serio...» «Eisel?» «Ehi, Eisel!» La ragazza crollò in ginocchio. All'improvviso aveva le vertigini. In lontananza udì gli amici che esultavano sulla nave. Jason era lì accanto a lei, ma si muoveva al rallentatore. Era una sagoma indefinita. La sua voce, un rumore incomprensibile di sottofondo. La brina dilagò sulle rocce e sull'erba intorno. Il cumulo di tesori che Eisel aveva evocato per Cirone si riassorbì nella terra. La foschia si mosse in un vortice. «Cosa ho fatto?» pensò la ragazza in preda al panico. «Qualcosa è andato storto!» «No, Eisel!» disse una voce profonda alle sue spalle. «Sei stata brava!» Eisel non osava quasi respirare. Aveva udito quella voce solo una volta in vita sua, ma l'aveva riascoltata nella mente migliaia di volte. Si voltò. Di fronte a lei. C'era suo padre. Plutone era vestito in ambiti romani. Aveva i capelli neri tagliati molto corti, il volto pallido e spigoloso rasato di fresco. La tunica e la toga erano di lana nera in tessuta d'oro, solcata dai volti mutevoli di anime tormentate. La toga era orlata di rosso cremisi, come quella di un senatore, ma la striscia si increspava come un fiume di sangue. Sull'anulare portava un anello con un grosso opale, come fatto di foschia congelata. «La sua fede nuziale!» pensò Eisel. Ma Plutone non aveva mai sposato sua madre. I dèi non sposavano i mortali. Quell'anello rappresentava il suo matrimonio con Persephone. Quel pensiero irritante aiutò Eisel a riscuotersi. Si alzò. «Che vuoi?» chiese, senza tanti preamboli. Sperava di ferirlo, di pugnalarlo al cuore per tutto il dolore che le aveva causato. Invece, un debole sorriso comparve sulle labbra del signore degli inferi. «Mia figlia», disse. «Sono colpito. Sei diventata forte». «Non grazie a te!» avrebbe voluto rispondere lei. Avrebbe preferito restare insensibile al complimento, ma sentì le lacrime salire agli occhi. «Pensavo che voi divinità maggiori foste bloccate dal conflitto fra personalità greche e romane. È così, infatti», confermò Plutone. «Ma tu mi hai invocato con una tale forza che mi hai permesso di comparire. Anche se solo per un attimo». «Io non ti ho invocato». Ma nell'istante in cui lo diceva, Hazel capì che non era vero. Per la prima volta, di sua spontanea volontà, Hazel aveva abbracciato la natura di figlia di Plutone. Aveva cercato di comprendere i poteri del padre e di usarli al massimo. «Quando giungerete nella mia casa, nell'Epiro, tenetevi pronti», disse il Dio. «I morti non vi daranno il benvenuto». E la maga Pasifae non si lascerà ingannare facilmente come Scirone. Gli occhi di Plutone scintillavano come pietra vulcanica. «Hai superato la tua prima prova, ma Pasifae intende ricostruire il proprio dominio, che metterà a repentaglio tutti i semi dèi. A meno che tu non la fermerai nella casa di Ade». La sagoma del Dio tremolò. Per un attimo divenne un uomo barbuto, vestito in abiti greci e con una corona d'alloro fra i capelli. Ai suoi piedi, mani scheletriche sbucarono dal terreno. Il Dio strinse i denti e aggrottò la fronte. La forma romana si stabilizzò. Le mani scheletriche si dissolsero nella terra. «Non abbiamo molto tempo». Plutone sembrava convalescente da una brutta malattia. «Sappi che le porte della morte si trovano nel livello più basso del Necromantion». «Devi fare in modo che Pasifae veda ciò che vuole vedere. Hai ragione. È questo il segreto di tutta la magia. Ma non sarà facile quando sarai nel labirinto». «Che vuoi dire? Quale labirinto?» «Comprenderai», le assicurò il Dio. «Eis e Levec. Non mi crederai, ma sono fiero della tua forza. A volte l'unico modo che ho per prendermi cura dei miei figli è tenermene a distanza». Eisel trattenne a stento un insulto. Plutone non era altro che l'ennesimo padre divino distante e pigro che accampava scuse per la propria assenza. Ma il cuore le batteva forte mentre si ripeteva le sue parole «Sono fiero della tua forza». «Vada i tuoi amici», disse Plutone. «Saranno preoccupati. Il viaggio verso l'Epiro riserva ancora molti pericoli». «Aspetta!» protestò Hazel. Plutone inarcò un sopracciglio. «Quando ho incontrato Thanatos, la morte, mi ha detto che non sono sulla tua lista degli spiriti fuggitivi. Ha detto che forse è per questo che ti tieni a distanza. Se mi riconoscessi, dovresti riportarmi negli inferi». Plutone esitò. «Qual è la tua domanda? Sei qui. Perché non mi riporti indietro? Perché non mi restituisci ai morti?» La sagoma di Plutone cominciò ad affievolirsi. Sorrise. Ma la ragazza non riuscì a capire se fosse un sorriso triste o soddisfatto. «Forse non è ciò che io voglio vedere, Hazel. Forse non sono mai stato qui».